Il colastico di Tortoreto Lido del secondo defibrillatore, appunto ogni promessa è debito. E do anche un'altra chicca, nell'occasione del primo ritrovo Ferrari a Tortoreto Alto, sulle strade, sui percorsi circoli di Tortoreto, è successo che gli equipaggi facendo una sottoscrizione hanno donato una somma non importante, ma anziché diciamo ristornarla a me stesso per rimborso spese ho acquistato una tv da donare alla casa famiglia qui di Tortoreto Lido. Quindi il percorso sportivo, il percorso culturale, logicamente, che abbiamo fatto il 17 settembre, sta continuando per poi concludersi appunto con la donazione di questa tv che daremo ai bambini della casa famiglia.